Non doppio quasi mai, in effetti nei miei film doppio poche cose, dopo quando faccio un film come attore doppio me stesso, poi i cartoni diciamo è la seconda volta che lo faccio, l'ho fatto una volta con Opopomoz, Didalo, che era però un essere umano a cartoni, qui invece ho dovuto doppiare un piccione, quindi è ancora più divertente perché ho dovuto, grazie a tutti, a Marco Guadagno abbiamo inventato la voce del personaggio, mi ha dato le indicazioni, le intonazioni, è un lavoro molto vicino alla musica, anche alla recitazione, però mentre per esempio al teatro, al cinema, io la musicalità la uso poco perché altrimenti rende meno reale, invece nel cartone ho notato che la musicalità aiuta molto anche l'espressività, è stata un'esperienza molto interessante. Allora, il mio personaggio è un piccione, si chiama Piccione Tobi, è un personaggio che dovrebbe essere un po' odioso, io sinceramente a me mi sta simpatico e l'ho fatto simpatico, anche grazie a Marco Guadagno, l'ho fatto più simpatico, e il simpatico imbroglioncello che è un po', se ci pensate bene, nella tradizione napoletana Pulcinella è un po' il simpatico imbroglione che sta sempre sospeso tra più padroni, serve più padroni, non come a Lecchini che ne serve due, ma Pulcinella mi ha servito perché siamo stati a Napoli dominati da tante altre culture, per cui siamo nella nostra tradizione fare quello che, che poi ci stanno tanti personaggi, ora quello più antipatico di tutti è Iago, questo non è Iago, è un imbroglioncello simpatico, buffo. Allora, Cicogne Missione mi sembra bellissimo perché ha un colore bellissimo, ma soprattutto i personaggi sono simpatici perché queste Cicogne che portano i bambini comunque sono personaggi simpatici, in questo caso ho detto portano i bambini, ma dovete vedere il film per capire, perché su questo è molto, molto rocambolesca questa cosa, perché è un film in realtà dove non portano più bambini, poi per fortuna, per fortuna riprenderanno il loro mestiere più leggendario. Mi ricordo quando Tu mi amavi tanto Tu mi amavi tanto Giacogne, ma Giacogne, ma lascia, che ti impor, poi nel film vedranno quella giusta Allora, fai come ti pare, allora non facciamo il doppiaggio Il triplaggio Il triplaggio